Benvenuti, benvenute, questo è il primo incontro del ciclo Leggere il Presente, che doveva essere la quarta, quinta edizione se non ci fosse stato il lockdown, la pandemia, e in realtà è la seconda edizione, perché la prima la facciamo proprio alla vigilia della pandemia. La presentazione all'assessore alle politiche culturali, Laura Valli. Grazie Ermanno, buonasera a tutti e grazie a Daniele Biella e Wisdom Adalette di essere qui con noi questa sera a parlarci da testimoni diretti di un fenomeno che anche recentemente ha potentemente scosso le nostre coscienze. Parlare di fenomeno quando abbiamo ancora negli occhi le immagini dei corpi dei bambini che il mare ci ha restituito nelle scorse settimane fa male e forse non è neanche il termine più corretto, perché in qualche modo la parola fenomeno rischia di anestetizzare le nostre coscienze, forse di spersonalizzare il dramma individuale di bambini e ragazzi che lasciano la propria casa, i propri affetti, mettendo a rischio la propria vita per fuggire da guerre, persecuzioni, discriminazioni o mossi, proprio come fanno gli adulti, dalla ricerca di un futuro migliore. Ciò che è peggio è che a questa ferita si aggiunge quella di un silenzio dei media che fa di questi bambini e di questi adolescenti degli invisibili, una massa in realtà di migliaia di minori che cercano di raggiungere l'Europa e l'Italia di cui però nessuno parla. Con questa serata vogliamo quindi renderli in qualche modo visibili, capire chi sono, da dove vengono, che rotte percorrono, che esperienze vivono, cosa succede quando arrivano alle frontiere, che cosa succede dopo, qual è il sistema di accoglienza in Italia, che futuro li attende? Per questo abbiamo invitato a parlarcene proprio Daniele Biella, giornalista incaricato da Save the Children di indagare e documentare questo fenomeno dei minori migranti insieme a Wisdom Adalete, rifugiato in Italia e insieme loro proprio in queste settimane stanno incontrando le scuole di Brugherio per raccontare nei modi più adatti insomma ai ragazzi delle scuole medie queste stesse cose o anche altri con altri occhi, ecco in realtà il progetto si chiama così. Con loro cominciamo, come diceva prima Ermanno, una nuova edizione della rassegna a leggere il presente iniziata nel 2019 ma poi appunto interrotta proponendo un viaggio a diretto contatto con alcune delle ferite che lacerano il mondo e che interpellano o dovrebbero interpellare le nostre coscienze, decifrare il presente, capire questo mondo che molto spesso si presenta come asimmetrico, nel quale quelli che per noi sono diritti acquisiti di cui quasi non ci accorgiamo, in altre parti del pianeta sono invece privilegio ancora di pochi, conoscerne le cause, insistere su dati, informazioni attendibili e di prima mano, offrire occasioni pubbliche di approfondimento che ci consentano di andare oltre le semplificazioni dei media. Ecco sono un po' queste le ragioni che ci hanno spinto ad ampliare le già tante iniziative della biblioteca anche in queste settimane in corso, raccogliendo un bisogno di conoscenza al quale abbiamo pensato di rispondere appunto riprendendo questo ciclo di incontri. Ringrazio quindi la biblioteca, i suoi responsabili, Ermanno Vercesi per l'organizzazione, la preparazione e la conduzione delle serate e tutti gli ospiti, gli ospiti quelli di stasera e quelli dei prossimi due mercoledì per aver accolto il nostro invito ad aiutarci a capire la realtà, superare quella coltre di false notizie o peggio ancora di silenzi che ci impediscono di avere piena consapevolezza di quello che realmente accade nel nostro paese, nel nostro mondo. Grazie e vi lascio a Daniele e a Wilson. Grazie, grazie Laura. Ci introduciamo a questa serata. Io vi propongo di fare solo un pensiero. Negli ultimi mesi sono successi due volte a Brugherio due episodi in cui un minore non è tornato a casa. Non so se ve lo ricordate. In quelle due occasioni nel giro di penso un paio d'ore quasi tutta Brugherio aveva sul telefono la foto, il nome, come era vestito, l'età, i riferimenti dei genitori, delle forze dell'ordine e credo che tutti abbiamo partecipato. Io stesso ricordo di essere stato angosciato non conoscendoli assolutamente perché mi immaginavo il dolore e l'angoscia della famiglia nel non veder tornare a casa un o una minore. In questi due episodi poi tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché per fortuna sono finiti entrambi bene, i due ragazzi sono stati ritrovati e credo che tutti abbiano in qualche modo si siano rallegrati. Ecco due persone. Adesso entriamo in quello che Laura chiamava non dovremmo chiamarlo fenomeno e che il burocratese ha già inventato una sigla che è MSNA minori, stranieri non accompagnati. Il problema è che non sono due, negli ultimi dieci anni sono più di centomila e quando sono più di centomila non danno la stessa emozione di due di cui vedo la faccia, il vestito e mi immagino la mamma e il papà. Però noi dobbiamo andare oltre perché altrimenti siamo bloccati da questa logica. Non è possibile che la storia di uno o due ci sconvolga, ci sono emozioni e la storia di centomila ci lascia indifferenti, questo è un po' il senso. Per recuperare questa dimensione di capire provate a pensare centomila ragazzi e ragazze, anche molto piccoli, brazzoli che vagano per l'Europa. È una cosa quasi intollerabile. Allora lo strumento è quello dell'inchiesta e l'inchiesta l'ha condotta il giornalista che abbiamo ospite qui stasera, a cui lascio la parola e gli chiedo di spiegarci come è stata questa inchiesta, dove sei andato, cosa hai fatto. La parola e lo ringrazio tra l'altro a Daniele Biella. Grazie a te Armando, ma in realtà grazie a Brugherio. In queste settimane, venendo tanto da Brugherio, verso Brugherio, giusto Wisdom, perché nelle scuole medie in particolare siamo stati tanto e quindi da Usmate Velate, che è lunghissima la strada per arrivare a Brugherio, di fatto al mattino si diventa una volta ingestibile. Però mi fa piacere perché entrare nelle comunità, in questo caso attraverso i ragazzi, stasera con voi, è un modo anche per nel piccolo sentirsi parte. Poi ovviamente siamo tutti, come si può dire, ognuno vive l'esperienza che vive nella sua vita a seconda di dove vive, il vicinato, il lavoro che fa. E quindi quando intervengo in serate come queste, sia all'inizio, soprattutto quando venivo invitato come scrittore, è successo anche qua a Brugherio, qualche anno fa, è una bellissima serata, tra l'altro nel tempo è come se avessi mutuato un po' il modo di parlare. Vi chiedo scusa in anticipo perché a volte vado molto più diretto di prima. Io scusa se magari durante la serata dirò cose magari che a livello, diciamo, emozionale sono un po' forti. Non voglio farlo per pietismo, perché voglio sconvolgere qualcuno, perché c'è già la televisione che è abbastanza alla ricerca della morbosità o di quello che ci deve sconvolgere. No, ve lo faccio proprio nell'ottica che dicevi te prima in mano, perché dietro ogni storia, ogni numero c'è una persona. Noi stessi siamo tante persone con tante individualità diverse. Nell'incontrare ragazze in particolare, sia minorenni come citavi, non accompagnati, ma anche minorenni che vengono con le famiglie, mi rendo sempre di conto di come sia importante distinguere ogni singolo caso. E soprattutto da quando ormai ho la mia età, tra virgolette, nel senso che sono genitore anch'io, due figli di tredici e nove anni, da quando sono diventato anche padre, è molto particolare anche il rapporto che ho con le persone che incontro, perché spesso ci rivedo anche banalmente come la mia famiglia proprio sfortunata. Quindi a volte mi rendo conto anche di dire meno male che non sono da quella parte lì, meno male che io racconto e non vivo un'esperienza, perché sennò non saprei davvero dove trova la forza a volte le persone che incontro, banalmente andare avanti e continuare nonostante le difficoltà che ci sono. Che sono difficoltà che magari potremmo incontrare anche noi. Io penso che tutto questo lavoro che si sta facendo, e ringrazio in particolare Save the Children perché si è un po' messa in gioco con l'organizzazione per andare alle frontiere e capire quello che non funziona, è tutto un lavoro molto diretto che va a toccare anche certi tasti delicati, perché parliamoci chiaro, superare un confine senza documenti è contro la legge, quindi chiunque supera un confine lo fa in modo, senza documenti validi, lo fa in modo irregolare, è clandestino. Una volta che abbiamo definito che una persona lo fa in modo irregolare, è clandestino, rimane la situazione, non è che allora se uno viene bollato come clandestino in qualche modo finisce lì la storia, bisogna superare questa condizione di clandestinità, bisogna capire dove porta e quando davanti a me incontro persone che devono superare un confine in un modo irregolare e poi magari le ritrovo dall'altra parte, perché in un caso che dopo fa poco arrivo a parlare per esempio di quello che succede tra il Piemonte e la Francia o la Liguria e la Francia, quando le ritrovo dall'altra parte sono sempre le stesse persone, che però per fare una cosa che per noi riusciamo a fare in 30 secondi, avere quella carta entità, superare un confine, loro devono farlo magari di notte, di nascosto, correndo anche dei pericoli, perché mentre stiamo parlando qua adesso ci sono persone che stanno camminando a Clavier, in mezzo alla neve, in Val di Susa, cercando di non essere visti dalla polizia francese, che è lì con i binocoli a raggi infrarossi per cercare le persone, come se fosse un videogioco, però sono persone in carne ed ossa. Una cosa che mi sono reso conto quando ho visto queste situazioni, proprio per questa ricerca, è che né ovviamente le persone che stanno facendo questi viaggi profughi o comunque migranti di qualsiasi motivazione, né le stesse forze dell'ordine vorrebbero essere in una notte in quella situazione lì, un poliziotto magari o poliziotta, pure il genitore che deve respingere di notte una famiglia con dei figli piccoli, non so se c'è qualcuno che prova piacere in questa cosa, quindi a volte si mettono davvero contro persone che in realtà non vorrebbero nemmeno essere lì in quel momento. Tutto questo predispone che questa umanità alla fine incide sul lavoro che fai, in questo caso non è un lavoro giornalistico ma una ricerca, quindi si può andare più in profondità a lavorare su queste cose. Lo faccio un po' per immagini, nel senso che comunque quest'anno abbiamo lavorato molto alla frontiera appunto nel nord Italia, che vi faccio vedere un attimo qua, quindi per settimane siamo stati, dico siamo perché io ero coordinatore di questa ricerca, poi sono stato affiancato da un videoreporter che magari conoscete anche perché si chiama Alessio Romenzi, che è videoreporter di guerra, che ha vinto anche dei premi sul Time durante la guerra in Siria, proprio perché ha vissuto i primi anni della guerra in Siria, ed è il compagno tra l'altro di Francesca Mannocchi, Francesca Mannocchi è una giornalista che probabilmente conoscete perché è spesso in Ucraina ultimamente, ma anche in Libia ha lavorato molto, una persona molto valida e con il suo compagno appunto Banno nei contesti di guerra. Ecco, lui ha lavorato con me a fare le riprese video, se poi siete interessati, il rapporto si chiama Nascosti in piena vista e basta andare online e si vede il video di Lancio che ha fatto proprio Alessio Romenzi su questo. Quindi abbiamo lavorato molto a Trieste, al confine con la Slovenia, che è il luogo di ingresso delle persone in Italia, e in particolare per quanto abbiamo fatto questo lavoro sulla frontiera nord, abbiamo scelto di lavorare a Ventimiglia, che è qui, e a Ulx appunto, che è il valico del Mon Ginevro, alla fine della Val di Susa, perché sono attualmente i punti più di passaggio. Anche le persone che hanno come metafinale la Germania in questo momento non passano dall'Austria o dalla Svizzera, sia perché è più pericoloso, le montagne sono più alte, ma anche perché comunque a livello di frontiere l'Austria e la Svizzera hanno militarizzato molto di più la frontiera della Francia, quindi di fatto passare, anche se è più lunga dalla Francia, si può arrivare prima possibile, parliamo comunque settimane, mesi, però di fatto è più facile, tra virgolette, nel senso, quindi le spinto una volta, due volte, tre volte, però alla fine ci passi e arrivi dove vorresti arrivare. Il unico problema è che anziché arrivarci in un tempo magari decente, ci arrivi anche dopo mesi e mesi e mesi, mesi di attese, mesi di non sapere bene cosa fare, dove andare, dove dormire e quando c'è una famiglia, o comunque sono degli adulti, ok l'adulto in qualche modo è già abituato a un certo modo di, diciamo di fronte alla precarietà, ha degli strumenti che può usare, anche solo chiedere aiuto. Quando sei un ragazzo minorenne, magari che hai anche 14, 15, 16 anni, un po' meno, soprattutto se fuggi da paesi in cui, che hanno culture completamente diverse dall'Europa, in particolare i ragazzi che ho più conosciuto in questi mesi sono ragazzi afghani, ok? Dall'Afghanistan, qualcuno probabilmente lo saprà già, c'è nata una fuga di massa dei ragazzi, ok? Anche le ragazze vorrebbero fuggire perché la loro condizione è ancora peggio oggi, perché appunto, anche questo probabilmente lo sapete, ma da quando sono tornati talebani al potere le condizioni della donna sono diventate assurde, le ragazze alla fine della scuola primaria vengono tolte dalla scuola e obbligate a casa a sposarsi con degli adulti. Ovviamente non sono consenzienti questo matrimonio e non possono più nemmeno uscire in pubblico da sole, ok? Quindi è una condizione davvero devastante per ognuno che abbia a cuore i diritti umani delle persone, i diritti civili anche. I ragazzi, anche loro, non possono studiare quello che vogliono e fuggono. Fuggono e lo fanno in un modo tremendo, tra virgolette, nel senso che la loro famiglia ripone tutte le speranze, nel loro, significa che si indebita in un modo totale, a livello di macchine, casa, spende migliaia di Euro, una sorta di sistema che un po' lo spieghiamo nel rapporto, si chiama un sistema particolare che è vero che sono trafficanti quelli a cui pagano, però è come se fosse un uomo di fiducia, perché di fatto alla fine quello è il trafficante, è una persona a cui dai dei soldi per raggiungere un obiettivo. Quindi non è che non è il trafficante libico per intenderci, che ti lascia in mezzo al mare, che non gliene frega nulla, scusate il termine se il tuo gommone si ribalta. In questo caso è una persona che è lì nel paese di partenza anche dei genitori, quindi è una persona che tu vedi e i ragazzi stessi sanno questo. Infatti tutta questa migrazione è a pezzi, ogni pezzo che si passa si paga un pezzo al trafficante, questo passeur, e poi il passeur è quello che accompagna comunque il trafficante e alla fine del viaggio, quando arrivi in Italia, per esempio se ti fermi in Italia, anche se molti afghani non si fermano in Italia, vogliono andare in Germania o in Francia, quello che manca da pagare lo ripaghi nei tuoi primi mesi dell'arrivo lavorando, quindi tu lavori, inizi a lavorare e quello che guadagni lo mandi in patria perché la famiglia si deve riscattare dal debito contratto per farti viaggiare. Vado un po' nel dettaglio per farvi capire perché di fatto fondamentalmente funziona così, è un viaggio che è organizzato, sì, ma organizzato in un contesto in cui non ci sono biglietti ma c'è solo rischio di non arrivarci. Prima avevo messo la, adesso si è spostato un po' però forse c'è ancora la tratta, smirne cortone, perché avevo messo questa tratta? Perché di fatto è il viaggio che hanno fatto le persone che purtroppo non sono sopravvissute al viaggio, ovviamente l'hanno fatto via mare, le persone che sono morte nell'ultimo naufragio. Ve l'ho messo qua perché è una rotta che ultimamente è molto frequentata e infatti quest'estate, sempre per questo rapporto, sono stato in Calabria su lungo quelle coste a vedere proprio questo tipo di viaggio ed effettivamente quello che succede adesso è che siccome le persone, spesso vedete l'Afghanistan è qua in fondo, o dall'Iran o da tanti altri stati come il Pakistan, quando arrivano in Turchia anziché fare quello che hanno fatto negli ultimi anni, ovvero entrare o dalla Bulgaria o dalla Grecia, cioè in Europa perché sanno che in Europa è un luogo in cui si vive meglio tra virgolette, c'è più possibilità di un futuro, lo fanno tramite il mare verso la Calabria, che uno dice ma come fai? Perché devi viaggiare 5 giorni nascosto sotto una barca, anziché passare dalla terraferma alla terra, è diventata più pericolosa del mare, questo è un po' il concetto che anche in Libia c'è, i libici ma Wisdom lo conferma perché lui è arrivato tramite il gommone, è stato salvato in mare, se no non sarebbe qua oggi e anche lui come altre persone dice proprio che è meglio rischiare la vita in mare che rimanere dove ero, il concetto base è questo, se no uno non partirebbe, non metterebbe la sua vita a rischio su un gommone. Ultimamente è diventato quasi meglio provare la tratta in mare anche dalla Turchia all'Italia che non arrivare dalla Turchia alla Grecia, sulle isole della Grecia, perché di fatto si è creato un sistema di burocrazia pazzesco per cui la persona che arriva sull'isola di Lesbo e mentre prima è un'isola di passaggio adesso deve stare un anno, un anno e mezzo, due anni in attesa di documenti. Trovate a pensarci cosa vuol dire per una persona, una famiglia che ha investito tutto in questo rotto migratorio, rimanere un centro d'accoglienza in mezzo a tanta altra gente, di tante altre nazionalità senza futuro, i figli non vanno a scuola, quindi proprio un contesto in cui le persone sanno cosa vanno incontro e scelgono la via più giusta per loro. La via più giusta è diventata questo viaggio verso la Calabria, sono arrivate tantissime persone, l'anno scorso io sono stato lì meno di una settimana, sono arrivate più di 1500 persone che sbarcavano soprattutto e sbarcano anche a roccella ionica l'ultimo qualche giorno fa, perché continuano questi arrivi, ma attenzione queste persone soprattutto di questa tratta dell'Afghanistan, dell'Iran, non vogliono rimanere in Italia, quindi quello che fanno è due giorni dopo massimo tre sono già in Val di Susa o a Ventimiglia per andare altrove. Questo è un fenomeno che va rimarcato perché quando sapete la frase vogliono venire tutti qui, insomma qui in Europa ok, qui in Italia anche no, c'è geograficamente l'Italia vicina che arriva in Italia di fatto, però dopo poco se ne vanno, ok, perché comunque l'Italia è il luogo di passaggio, ma lo sa anche se ne rende conto anche le forze dell'ordine, quando vai in Val di Susa vedi proprio che le forze dell'ordine capiscono che queste persone sono di passaggio, nel momento in cui la Francia le rispinge al confine, le forze dell'ordine, gli italiani prendono queste persone perché la Francia le riconsegna, ok, viene dato un foglio di via, certo, ma poi le persone vengono fatte tornare nel rifugio, per esempio che c'è a Ulx, un rifugio gestito da volontari, da lavoratori di una cooperativa, ma con la collaborazione nel Ministero dell'Interno, quindi stiamo parlando di una struttura assolutamente trasparente che di fatto dà un tetto alle persone, dà un pasto in attesa di che cosa? Anche questo ne parliamo con i ragazzi a scuola, nel momento in cui le persone magari arrivano lì, provano a fare l'attraversata notturna, vengono respinte, quando vuole la notte dopo cosa fanno? Tornano indietro, no, ci riprovano, capite, è come un gioco dell'oca, ecco è diventato un gioco dell'oca, i confini dell'Europa sono diventati questo gioco dell'oca assurdo, meno male che in quel confine perlomeno non c'è uso della violenza o della forza, il respingimento viene fatto in modo rispettoso, sapete probabilmente dalle narrazioni degli ultimi mesi se non anni che in altri confini invece è pesantissima la situazione a livello umano, io purtroppo mi vergogno un po' di essere nell'Unione Europea che ha vinto il Nobel per la pace, perché di fatto in alcune zone la violenza è presente, stiamo parlando in particolare dei confini esterni dell'Unione Europea, quello tra Croazia e Bosnia, o Bulgaria o Ungheria, vi faccio giusto vedere alcune foto, così poi smetto con questo primo intervento, per farvi capire un po' quello che vi sto cercando di dire, per esempio questa, torno un attimo indietro, questa foto che vi faccio vedere quella legata appunto a Wilkes, o meglio a Clavier al confine con la Francia, in mezzo alle montagne, quindi un ragazzo che appunto è arrivato lì nel centro che vi dicevo di accoglienza, dopo un po' si ferma a parlare con noi, si decide di mettere a disposizione dei traduttori, quindi degli interpreti, quindi le persone parlano la loro lingua madre, e questo ragazzo dopo un po' che ha preso confidenza, lui aveva 16 anni, ci dice volete vedere, faccio cos'è che vogliamo vedere, volete vedere che segno addosso, il momento in cui tira sulla maglietta ti fa vedere e ti racconta anche come è stato picchiato, oltre a essere respinto, che uno si chiede ma perché deve succedere così che le persone devono essere picchiate per essere disincentivate verso qualcosa che di fatto non è che li fa tornare in Afghanistan, non è che tornano in mezzo ai talibani dopo aver preso le botte, semplicemente gli rimane un po' il trauma del fatto che qualcuno ha usato violenza contro di lui, questa cosa a me spiace molto a livello umano perché il messaggio che poi dai è quello oltre a dire ok sei contro la legge, il fatto però è anche quello di un trauma che poi rimane perché poi quando le persone finiscono il viaggio, finisce la adrenalina del viaggio, ti ritorna tutto questo e quando c'è la volta che ci diciamo perché le persone in accoglienza di punto in bianco magari impazziscono o hanno dei problemi psicologici perché comunque non hanno elaborato i traumi vissuti, a volte non per forza in Europa e anche in Libia, tutti i traumi vissuti del rapimento in Libia, delle violenze subite, quindi siamo di fronte a un mix di situazioni problematiche. Quando ho fatto appunto questo rapporto, però adesso finisco in modo un po' positivo, ti rendi conto che comunque al di là di tutto ci sono le persone, le persone che viaggiano ma anche le persone che in qualche modo decidono e capisci che qualcosa pian piano può cambiare. Vi faccio un esempio, quando questo ragazzo ha passato il confine, lo vedete, questo ragazzo è anche lui afghano, di 14 anni, giovanissimo, anzi di fatto non si ricordava tanto la sua data di nascita, tanto era stanco dal viaggio, i problemi che ha avuto, era appena arrivato due giorni prima da una barca, la stessa barca vela con cui purtroppo non sono arrivate tutte le persone dell'ultimo naufragio, dopo cinque giorni nascosti sotto la barca vela, c'erano ancora le navi quarantena, quindi è rimasto un po' sulle navi quarantena all'arrivo e poi è stato lasciato andare e di fatto per, o meglio, a volte viene inserito in una comunità di accoglienza, però i minori non ci stanno più di uno o due giorni spesso nel comunità di accoglienza perché vogliono andare, non tutti, però la maggior parte è chi vuole andare via, scappa dal comunità di accoglienza per andare altrove, quindi spesso gli allontanamenti non sono fonte, a volte è giusto, al timore magari del traffico di ragazzini piuttosto che anche di organi, è vero che può succedere, di fatto quello che abbiamo visto con questi rapporti è che l'allontanamento è volontario perché di fatto la loro meta non è l'Italia, quindi i loro persone, questi ragazzi sanno bene dove andare, o meglio, per esempio gli afghani vanno spesso in Germania o in Inghilterra perché c'è una comunità afghana molto più grande rispetto a quella italiana, passa a porsi le giuste domande e si arriva alla giusta risposta, questo ragazzo quando è passato all'inizio non sapeva cosa fare, pensava di fare come gli adulti, ovvero di passare i confini di notte senza farsi vedere la polizia, alla fine invece gli abbiamo spiegato che comunque è minorenne, i diritti dei minorenni nelle frontiere interne europee sono quelli che se ti presenti devono farti passare, la Francia per un po' di tempo questa cosa non l'ha fatta, a volte purtroppo abbiamo raccolto delle prove che per non far passare un minorenne mettevano la data di nascita fittizia per cui quel giorno lì compieva 18 anni in modo tale che poi così non poteva rispingerlo, questa pratica è stata denunciata, di fatto la cosa è migliorata, quindi questo ragazzo con altri ragazzi dopo si sono presentati direttamente al posto di frontiera, hanno detto sono minorenne, gli faceva vedere il documento bene, altri ha visibile, questo ragazzo molto giovane e quindi è stato fatto passare senza dover rischiare di fare una notte sulla neve. Vi faccio vedere questo perché questo ragazzo voglio farlo anche sentire, nel senso che ovviamente è in inglese, è un video che abbiamo girato in inglese ma lo faccio solo sentire per capire un po' come parla, in realtà poi vi leggo due brani della traduzione di questo brano. Questo è lui appunto che racconta come si decide l'appunto. Grazie a tutti. Ok, lui appunto, questo per farvi capire un po' il suo modo di parlare, vi leggo qualche pezzo, qualche estratto della sua intervista e in particolare ci sono alcuni pezzi che fanno un po' venire i brividi, in particolare di quando ha passato certi confini e ogni confine è stato pesante, pensate a un ragazzo di 13 anni che vede, che dice per esempio confine con l'Iran, l'Afghanistan-Iran, che dice proprio che ha visto molte persone morire davanti ai propri occhi, in particolare c'è un pezzo che volevo leggere, potete leggere qualcosa però, ecco, sia tra l'Iran e Turchia che, scusate, l'Afghanistan-Iran e Turchia, quindi fuori dall'Europa, quello che racconta diceva questo, non potevo camminare, non potevo alzarmi in piedi, ci hanno preso a calcio, ci hanno preso a calcio con il ferro, con tutto quello che gli pareva, ci dicevano alzati e dicevano di fare come l'asino, come la mucca, qualsiasi cosa, fai animali diversi, comportati come un animale, ecco, per farvi capire come si può arrivare anche a livelli infimi di rispetto delle persone, sei in balia di persone che semplicemente non ti rendono, non pensano nemmeno che tu sia un essere umano, e questo è un ragazzo di 14 anni, pensate appunto a altre situazioni in cui i figli vedono maltrattare i genitori, per esempio, che è un'altra cosa che purtroppo è successa davanti appunto ai loro occhi. Detto questo, come concludo con questo primo intervento? Dicendovi questo, almeno facendovi vedere anche questa foto di questo ragazzo, no, non è questo, questa è una famiglia, c'è una foto, magari intanto la cerco, c'è un ragazzo in particolare che mi ha fatto molta impressione, perché nonostante tutto, nonostante le botte, nonostante tutto, teneva molto ben presente il suo obiettivo che è arrivare in Inghilterra e fare l'ingegnere, ok? Io con queste persone ci rimango in contatto, adesso questa persona è arrivata in Inghilterra, sta lavorando come cameriere, però sta tenendo via tutti i soldi per fare l'ingegnere, questo per dirvi che ci ha messo otto mesi per arrivare all'Afghanistan all'Inghilterra, quando magari un permesso lascia passare aereo ci mettevi forse 12 ore, arrivavi a Istanbul e poi partivi, questo ve lo dico perché non so se avete visto la situazione diversa che c'è nel trattamento delle persone che viaggiano, fortunatamente per la popolazione ucraina basta un passaporto per arrivare in Italia o in alcune zone d'Europa e meno male, anche oggi eravamo in classe con dei ragazzi ucraini che giustamente si sono presentati alla frontiera e sono entrati per un afghano, un siriano, altre situazioni in cui c'è la guerra invece devi nascondere nei boschi e questo è una cosa, questo dualismo ci fa capire come l'Unione Europea oggi non è pronta ancora purtroppo a gestire questi viaggi, ci sono a volte due pesi, due misure e questo è uno dei problemi, l'irregolarità dei viaggi è data dal fatto che non ci sono regole comuni per far chiedere asilo alle persone prima di arrivare in un posto, puoi chiedere asilo in Italia ma in Italia ci deve arrivare regolarmente, capite che allora c'è qualche problema perché se no come fai? È vero che i trafficanti sono il peggio, però il peggio ancora sono le regole che mancano perché se ci fossero delle regole giuste non esisterebbero nemmeno i trafficanti perché nessuno deve rivolgersi a loro per fare un viaggio perché diventa regolare quello che oggi è regolare, mi fermo un attimo qui se no andrei avanti tre ore. Sì grazie capisco che è difficile raccontare però tu sei un po' il mediatore delle loro voci stasera insomma, noi vorremmo cercare di capire come loro vedono il mondo, noi siamo un po' arroccati della quella che chiamano la fortezza Europa e vediamo insidiati i nostri privilegi che a volte sono privilegi di una vita appena appena decente, che siano privilegi diciamo da super ricchi, però l'atteggiamento rischia di essere, io penso che ti chiederei se di capire loro cosa raccontano, cosa dicono, cosa vedono, cosa sperano, cosa provano, cos'è il mondo per un ragazzo di 14 anni che parte dall'Afghanistan e fa 8 mesi di viaggio, cos'è che vede, sente, cosa ci può in qualche modo anche insegnare? Non ho mai visto così tanta forza in un essere umano come nei ragazzi minorenni, probabilmente appunto io dico a volte a mio figlio senza pesantirlo troppo perché lui aveva 13 anni non è che gli dico devi imparare a queste persone perché di fatto è chiaro che è diverso il contesto, siamo un altro mondo tra virgolette, però la forza, come si può dire, la forza di volontà di queste persone è una cosa che anche quando se hai i tuoi problemi e ho i miei problemi guardo le persone, le storie, guardo la storia di Wisdom che non ne ha più di 14 anni ma ne ha un po' di più, dopo direi tu quanti ne ha, e questa forza è impressionante perché non la ferma nulla, io sono davvero impressionato di fronte a tutta questa, chiamiamola resilienza se vogliamo, che queste persone portano con sé, anche di fronte appunto ai traumi che si portano indietro, io volevo poi appunto raccontando le storie mi viene da pensare a un ragazzo che ha conosciuto questa primavera che a un certo punto si è sentito di condividere con noi del materiale veramente importante, ovvero tutti i video che ha fatto che è riuscito a fare durante il suo viaggio, anche rischiando, rischiando la vita perché i trafficanti se ti vedono fare i video basta un attimo, c'è una pistola, sei in mezzo al deserto, ti sparano, sei in mezzo alle montagne, però lui voleva proprio testimoniare questa cosa, tant'è che mi fa piacere perché poi ho proposto a Save the Children di metterla in quel rapporto e anche voi potete scaricare i video che ho qua adesso perché hanno fatto una specie, sapete, QR code che si può vedere dal cellulare, si possono vedere i video, sono video abbastanza impressionanti perché comunque ti fa capire, a parte la banalità di queste situazioni, ovvero sei su un pick up, devi dare dei soldi a un trafficante, dall'altra parte se si fermi a pensare pensi che sei un ragazzo di 15 anni in balia di esseri umani più grandi, che potrebbe fare tutto quello che vogliono con te, però nonostante tutto tu vai avanti alla tua strada, vi faccio vedere appunto questo ragazzo perché lui per esempio questo, adesso vediamo quanto dura perché sono vari frammenti di video, questo è uno, è un primo pezzo della suo viaggio, in particolare dall'Afghanistan all'Iran, quindi questo è il confine, le montagne, vedete? E questo poi sono documenti girati da lui, quindi alcuni nelle situazioni più tranquille, ovvero con altre persone senza trafficante faceva questi video, altre volte è un po' più difficile. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 le persone, anche perché c'è la sabbia che ti viene addosso, però di fatto sono quei pick up di cui si sente parlare gestiti da trafficanti di oggi cioè un tempo c'era, non so se avete visto Tolo Tolo, il film di Zalone un tempo c'era, c'è ancora ogni tanto però un po' meno il classico camion gigante pieno di persone, di cose che vale il viaggio nei deserti in realtà adesso è stato sostituito da pick up questi trafficanti si muovono su pick up che sono più veloci, ma allo stesso modo se c'è qualche problema ti lasciano lì se ne vanno, quindi questo è il problema quello che dice Javed, ve lo racconto scusate Bilal dice prima la situazione economica della nostra famiglia era stabile, mio padre era un tassista io ancora andavo a scuola e poi ho iniziato a lavorare come meccanico anche perché la situazione in Afghanistan è cambiata ho 4 fratelli e 4 sorelle dopo la conquista dell'Afghanistan da parte dei talebani mio padre aveva venduto il taxi vivere in Afghanistan non aveva più senso ho insistito con mio padre gli ho detto che non potevo più vivere in Afghanistan perché non potevo andare a scuola non c'era lavoro e mio padre l'ha accettato mi ha detto come vuoi ha parlato con il trafficante e mi ha detto a prepararmi e poi dice una volta raggiunto il confine i militari orianiani o turchi hanno sparato in area così siamo scappati correndo verso il punto da cui eravamo sovvenuti siamo tornati in Iran io là mi sono scusate la nostra guida era con noi guida si intende il passeur cioè quelli che li porta a destinazione solo c'erano dei ladri sulla nostra strada che hanno catturato alcune persone chiamato il trafficante chiedendo i soldi come riscatto poi va avanti ancora un po' dice la terza notte ci siamo spostati sul confine turco a volte devi stare anche tante diverse notti da un posto all'altro e all'improvviso hanno iniziato a fare fuoco le persone scappavano di qua e di là la seconda volta che hanno aperto il fuoco uno dei miei amici che mi accompagnava sin da Kabul è stato colpito da un proiettile dopo gli spari nessuno è venuto da noi tutti noi ci siamo radunati per recuperare quel povero ragazzo la guida era ancora con noi sul nostro cammino abbiamo incontrato dei kurdi i kurdi non parlavano la loro lingua ma la nostra guida li capiva nel frattempo il ragazzo è rimasto in vita per diverse ore ma alla fine è morto i kurdi ci hanno detto di lasciare a loro il corpo che avrebbero fatto appello al governo dicendo che c'era una persona morta quel mio amico mi aveva detto dei segreti mentre eravamo in viaggio per esempio il nome di suo padre e suo fratello i numeri di telefono erano tutti memorizzati nel mio cellulare così ho scritto il numero whatsapp di suo padre e suo fratello su un foglio di carta gli hanno messo in una tasca e consegnato il corpo ai kurdi ecco una reazione in modo freddo di qualcosa che in realtà se ci pensate è una cosa sconvolgente perché comunque questo ragazzo che ha perso la vita l'ha perso nel nulla i suoi parenti chissà se mai sono arrivati a sapere dove si trova adesso la salma del figlio tutto questo viene raccontato con una freddezza di un ragazzo di 15-16 anni che uno dice ma come fai a raccontare certe cose però perché sei già oltre sei in una fase in cui non ti interessa ti interessa di provare dolore non so se mi spiego in questo momento tu hai l'obiettivo di stare bene tu hai l'obiettivo di andare in un posto un nuovo posto da chiamare casa un nuovo posto dove giocare a pallone spensierato tutto quello che c'è in mezzo è una sospensione e così ti spieghi come mai a volte le persone che incontri durante il viaggio sembra che siano quasi anestetizzate dire ma come fai a non provare emozioni perché sei sospeso cioè non le provi perché se le provassi sono talmente forti che non ti muoveresti nemmeno e a volte succedono anche cose in tutto questo da virgolette non dico belle però anche leggere vi faccio un esempio quest'estate eravamo a Roccella Ionica appunto c'è stato uno sbarco sono arrivate tante persone ed erano ospitate in quello che adesso è una specie di sono dei container che sono lì al porto al porto turistico non so se qualcuno c'è stato quest'estate c'è il porto turistico e di fianco c'è il luogo degli sbarchi e c'è questa zona da cui le persone possono non potrebbero ma alla fine quello che fanno è saltano il recinto vanno verso la stazione di Roccella Ionica vanno verso la Mezzia Terme e poi vanno verso nord è chiaro che funziona così cioè non è che non è un hotspot come Lampedusa come altrove per cui sei chiuso dentro che è molto peggio tra l'altro perché alla fine non so se avete visto l'immagine anche negli ultimi giorni sono migliaia di persone tutte in poco spazio con danni notevoli per tutti in questo caso le persone da lì se ne vanno e allora è stato un po' impressionante una sera impressionante e positivo in questo caso perché una sera abbiamo conosciuto quando siamo entrati nel campo con l'autorizzazione ovviamente abbiamo conosciuto le persone che erano dentro c'era anche Medicinze San Frontiere dopo un po' di due ore noi eravamo a fare un'intervista al bar centrale di Roccella Ionica che è un paese abbastanza piccolo e di fianco c'erano delle persone tre ragazzi e questi ragazzi ci hanno guardato e ci hanno chiesto potete bere voi il nostro in inglese potete bere voi il nostro drink e facciamo perché e perché c'è dell'alcol allora ci giriamo la mediatrice gira e vedi questi tre ragazzi sono tre dei ragazzi che c'erano prima nel campo che erano arrivati quel giorno lì dallo sbarco che erano talmente orientati diciamo a quello che volevano fare che sono andati anche a barare a bere qualcosa hanno chiesto cos'era la cosa più che si beveva in quel posto lì gin lemon e sono trovati a bere tre gin lemon in realtà per loro in questo caso la religione non potevano bere alcol e quindi quando si è reso conto hanno detto no no figurati bevetelo voi e poi hanno capito che noi eravamo le persone che avevamo conosciuto nel pomeriggio allora da lì è diventata un po' più come si può dire delicata la situazione perché è vero che loro hanno visto che non è che dicevamo loro dovete tornare nello spot anche perché comunque nello spot in quel centro la situazione era palese che comunque c'era questo passaggio di persone tant'è che ti hanno salutato e poi sono andati a prendere il treno per andare verso il nord però questa normalità delle persone che appena vanno via da un posto si fermano in un bar ci fa capire che non c'è nulla che può fermare fino in fondo questi viaggi ovvero può succedere qualsiasi cosa ma la mentalità delle persone è quella di arrivare alla meta prestabilita questi sono alcuni esempi poi ce ne possono essere tantissimi altri ok basta per adesso se non vorrei farvi vedere un attimo un video del passaggio invece questo mi è arrivato dopo per esempio vi faccio capire cosa significa passare la montagna questa è la mattina ok questo ragazzo ha provato a camminare in mezzo alla neve quando si pensa bello fare il viaggio alla neve ma adesso lo fai appunto in questo modo senza nemmeno sapere bene dove andare rischi ok questo ragazzo l'ha fatto di giorno provate a pensare a farlo col buio è anche molto molto pericoloso infatti la croce rossa lì proprio a Calavier ha un 24 ore un camper dà proprio un foglietto alle persone che passano dicendo chiamate il 112 quando c'è qualche problema infatti quando eravamo noi è successo che una famiglia irachena ha chiamato il 112 perché era una figlia di un anno aveva un principio di potermia quindi ha chiamato sono venuto a prenderla a volte anche con il gatto delle nevi le riportano indietro e poi insomma la notte tornano e la notte dopo tornano a provare il viaggio come dicevo prima quindi questi sono alcuni esempi sì grazie Daniele senti aiutami tu fai tu una domanda a Wisdom perché io non so bene cosa chiedere a te non so cosa vuoi raccontare cosa gli possiamo chiedere Daniele io con Wisdom appunto lui non so se qualcuno di voi ha i figli che hanno frequentato l'hanno conosciuto a scuola quello che mi sorprende di lui che non è più giovanissimo anche lui è una forza di volontà incredibile adesso lui è 30 anni giusto 30 anni che ha abbandonato il tuo paese nel 1993 è fuggito dal Ghana il Ghana è qua lo vedete magari qualcuno di voi c'è anche stato lui è fuggito per motivi politici nel 93 c'era una dittatura abbastanza croenta come tutte le dittature lui a un certo punto nel suo opporsi alla dittatura è stato semplicemente denunciato da qualcuno e sono presentati a casa sua le guardie del dittatore di allora e l'hanno preso ok è riuscito in modo lo cambolesco a fuggire dalla macchina su cui era e da lì in poi è scappato ha cominciato a correre a scappare a correre a correre per mezzi di fortuna ed è scappato verso Burkina Faso e poi verso la Libia dove ha vissuto 24 anni ok quindi la sua storia è divisa veramente in tre parti c'è la parte della vita in Ghana la parte della vita in Libia e da 6 anni quasi la parte della vita in Italia quindi si è dovuto per due volte ricominciare da zero vuoi dirlo tu quanti anni hai o facciamo dire fai come a scuola che fai indovinare le persone no dillo tu o l'anno di nascita così almeno però di fatto ti vorrei chiedere visto che Romanno mi ha chiesto una domanda per te ti vorrei chiedere quando pensi alla tua vita adesso che sei rifugiato in Italia cosa significa per te essere qui oggi in Italia che cosa ti ha dato per esempio l'Italia perché è una cosa io lo so tra virgolette però perché a dire di tutto sei una persona che so anche avere molta cultura sei interessato di politica del tuo paese diciamo lo segui ogni giorno anche se non ci torni da 30 anni cos'è che ti ha dato l'Italia proprio però spiegalo anche bene diciamo siamo di fronte a persone che grazie buonasera a tutti qua in Italia un paese che oggi abitanti è 30 milioni ma 30 anni fa cerca 20 milioni ma quando io finì a scuola primaria media e superiore di corso di falegname anche politecnico che come università inizia di lavoro in aziende di governo forestare azienda di forestare forestry department come si dice in inglesi ma in mio paese c'è tanti cosa chi manca quanto visto di immagini o mapa di Ghana Ghana è molto molto rico da risorse sotto terra per esempio c'è oro diamanti bauxiti manganese litium petroleum gas legno anche cibo non manca ok c'è ananas anacado ma mi credo che tutti voi o tutti noi in questo auditorio mangiano cioccolato ebbene sì ma ingredienti principali in cioccolato è cacao ma dove viene il cacao 80% di cacao che vengono dal mondo vengono di due paesi Ghana è costa di Voro è vicino di Ghana ma ti credi che i cultivatori di cacao non mai mangi cioccolato perché perché in Ghana il governo non crea o non construire fabbrici di cacao non è solo fabbrici di cacao c'è tante cose che mancano in questo paese per esempio quando noi giriamo a tutte le scuole in Monza e della Brianza tutti i studenti hanno gli strumenti per esempio banchi sedi quaderno pena libro ma in Ghana c'è tanti villaggi che studenti non hai dei banchi e studenti non hai dei sedi c'è zona che studenti studiano sulla mattoni anche c'è zona che studenti studiano a sua pancia persone che quando ho visto questo ma perché Ghana non è paese povero è paese molto ricco durante che io protestare a tutti questa c'è il governo dittatore militare che non voglio che persone che parla male di di lui quindi perché non è solo il settore di educazione anche di salute per esempio il grande ospitale in Ghana si trova in Accra capitale di Ghana Accra chiamata Kolebu Teaching Hospital ma questo da oggi quando è arrivato questo ospitale c'è per loro in Ghana chiamata No Bad Syndrome cosa divide No Bad Syndrome non c'è letto per malattia quando è arrivato in ospitale chi dorme infatti tre mesi fa io ho fatto intervento a Desio ospitale di Desio e aula di malattia c'è noi c'è sei persone ogni persone a di letto e ogni ora più di più di come si dice No Bad Syndrome ogni ora c'è come si dice ness infermere che vengono di da tutti di acqua di cibo di ma Ghana è molto corruzione in questo paese guarda adesso immagini e malattia dove dormi a sedi non è letto io quando noi inizia lavoro in Ghana 8 mattina fine a 5 ma quando torna a mio casa c'è c'è tanti ragazzo che è disoccupato noi gioca insieme a dama ma io tutti parlare mio parere solo politico quindi io dico ma governo perché governo non fa bene a paese paese che è molto ricco di risorse perché c'è qualcuno e gente tra noi che non non è d'accordo di me quindi uno giorno che 5 di mattina a mio casa che due persone di gente di governo vengono di me e dico ok tu criticare di governo quindi vieni con noi a capitale Accra per un attimo perché io penso che abbiamo compreso bene avete capito più o meno tutto quello che è tra l'altro sappiate che la sua settima lingua l'italiano nel senso che l'ha imparato sei anni fa adesso però svelo quanti anni hai lui ha 64 anni nel 65 settembre ok del 1958 quindi ha imparato la settima lingua a 59 anni io so sono pure laureato in lingua e ne so tre e basta quindi se sentite l'accento in realtà inglese perché Ghana ancora oggi è madrelingua inglese per la colonizzazione tutto quello che va raccontato prima fondamentalmente sono gli strascichi della colonizzazione quindi l'uso delle risorse del sottosuolo da parte dei colonizzatori ha fatto sì che si è creata questa disparità ok la dittatura spesso sono arricchite su questo concetto del fatto che diciamo la materia prima veniva venduta a basso prezzo all'estero le fabbriche non erano in Ghana quindi il contadino come diceva lui non ha mai mangiato una barretta di cioccolato semplicemente perché quando tornava in Ghana fatta è finita costava cento volte tanto la materia prima quindi di fatto siamo proprio di fronte a quello che non va bene nel mondo di oggi che a Wisdom però l'ha pagato davvero direttamente sulla sua pelle perché da quando è fuggito dal Ghana per farvi capire giusto una cosa che a me fa molta impressione e anche i ragazzi quando lo sentono lui è 30 anni che non vede i suoi figli quando è scappato avevano un figlio due anni e mezzo e la figlia era ancora nella pancia di sua moglie adesso hanno 33 anni e 30 anni la figlia ha una nipote hanno figlia di 7 anni quindi lui è anche nonno però anzi meno male che c'è Whatsapp perché ci sono i video Whatsapp prima non c'erano nemmeno i telefonini almeno adesso le vede tutti i giorni però non l'ha mai abbracciato fisicamente questa cosa impressionante quello che vi sta raccontando di fatto è è un vissuto che lui ha scusa poi correggimi se sbaglio perché fortunatamente lui ha potuto studiare lui ha vissuto in una città è arrivato fino a fare un corso universitario di farle gnameria perché lì è la parte dell'Africa quella proprio delle foreste e Ghana il legname è proprio uno dei materiali più importanti e quindi si è reso conto di quello che non andava bene ha protestato e quindi è come se a livello culturale c'era questo ve lo dico perché molti dei ragazzi che incontro lungo la strada sono ragazzi che comunque sanno come funziona il mondo perché le persone che invece rimangono ragazzi ignoranti che ignoranti nel senso che non sanno le cose che non vanno a scuola che non sanno nemmeno cosa significa avere un futuro migliore non migreranno mai quando si dice l'Africa si sta svuotando ma stiamo scherzando stanno venendo via solo le persone un attimo più consapevoli perché molte altre persone non capiranno vi ho messo questa foto perché l'ho fatta due anni fa in Niger sono stato a vedere proprio il passaggio delle persone da tutti gli altri stati dai problemi che ci sono terrorismi vari piuttosto che i guerri civili il passaggio attraverso il Niger è stato più povero dell'Africa secondo il mondo e mi sono trovato questi ragazzi che appunto la mattina anziché andare a scuola portavano il carbone al mercato perché i loro familiari hanno bisogno di cibo questi ragazzi non faranno mai una migrazione perché non capiscono nemmeno il significato di migrare la loro vita sanno che è quella roba lì fare una vita in cui devi arrivare a sera per vedere il cibo la maggior parte invece dei ragazzi che viaggiano oggi è consapevole o almeno dei propri diritti e questo è importante da capire perché non sono sprovveduti d'altra parte è appunto perché capiscono che c'è un mondo migliore e sono disposti a tutto pur di arrivarci questo è il concetto di base tornando appunto a Wisdom quello che colpisce anche i ragazzi nelle scuole la sua forza di volontà è anche tutto il fatto appunto che lui capisce fino in fondo cosa significa studiare alla fine il consiglio finale che dai ragazzi a scuola è proprio studiate studiate il più possibile e ti chiedo visto che ormai è un anno che andiamo tanto nelle scuole hai conosciuto migliaia di ragazzi italiani ultimamente quasi tutta Brugherio di terza media l'ha conosciuta come cosa non te l'ho mai chiesto questo cosa vedi nei ragazzi italiani di oggi come li vedi interessati che capiscono che quando tu gli parli sono come si può dire capiscono bene le tue parole oppure rimane loro solo la storia di una persona che viene da lontano e racconta cose strane oppure capiscono il tuo messaggio sì per esempio in comuni di Bulgaria quando noi andiamo di scuola e tutti i studenti quando ho sentito il mio parlore hanno che io scappa di mio paese è arrivato in Libia dopo Libia è arrivato in Italia loro simpatico loro voglio che conosciuto di me meglio perché loro come si dice mia storia è molto particolare che persone per esempio oggi più 30 anni io non ho visto mia figlia che è nascita quando io non c'è ok lei adesso è 30 anni non mai visto ma quando c'è tecnologia di internet è whatsapp video chiamata io ho visto solo di video quindi loro i studenti e tutti i studenti non è solo di Bulgaria ogni città noi giriamo di programmi di parlare di studenti loro per esempio come si dice Caponago tre giorni tre giorni o tre giorni fa studenti di studenti primaria c'è primaria c'è media quando noi marchiamo a strada tutti i studenti a finestra wisdom 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 quando noi entrare tutti vengono di me autografa voglio di me autografa più di 50 studenti che vengono per marchare tutti se autografa la cosa impressionante è che a un certo punto ho cominciato a fargli firmare le scarpe le braccia dicevo che poi arrivi a casa con l'autografo è un attaccamento molto forte e vedi proprio lì l'aggancio non è wisdom poverino profugo rifugiato passa proprio il messaggio di una persona un essere umano con cui crei un legame ed è questo un po' il concetto bisogna andare al di là del fatto noi e loro non c'è un noi che accogliamo e loro che accolgono siamo persone tutti se continuiamo a ragionare come noi e loro non ne usciamo da questa situazione è una cosa che ho capito fin da subito e lui quando viene a scuola è impressionante fa piacere perché io che sono giornalista scrittore all'inizio arrivo giornalista scrittore poi non mi interessa c'è wisdom voglio sapere wisdom cosa fa che squadra tiene al di là di tutto è un messaggio molto molto forte quello che lascia ai ragazzi insomma grazie grazie mille prima di lasciare se c'è poi qualche domanda del pubblico io vorrei però ci tengo molto a toccare un altro punto Daniele che è questo allora questa storia che tu ci hai raccontato è chiaro che ci fa capire la complessità del mondo nessun problema è semplice da risolvere questo è ovvio però è anche vero che di fronte a queste situazioni le cose si fanno molto semplici del tipo che cosa hai visto sorgere ai confini italiani in termini di aiuto immediato io so che hai avuto contatti con l'idea d'ombra trieste con le associazioni ah ecco non l'abbiamo fatto apposta non l'ho messo nessuno c'è feeling automatico questi due ottantenni che si sono messi in piazza medicare i piedi cioè a un certo punto di fronte a questo dramma le cose diventano semplici cosa c'è da fare lo faccio ho ottant'anni lo faccio lo stesso hanno rischiato la galera mi sembra di capire per questo voglio capire che cosa hai visto che cosa hai incontrato in termini di solidarietà seria di aiuto serio verso queste persone ecco qua entra in gioco un po' la parte mia un po' politically correct cioè nel senso che davvero io sono stato per esempio sulle navi in mare a vedere i salvataggi quando sono sceso in mare dovevo presentare un libro al senato un'aula del senato non in plenaria e forse trasportato anche dalle emozioni di aver visto i salvataggi ho detto alle politici che erano davanti a me per favore non parlate di queste cose se non salite su una nave il concetto è quello che devi davvero toccare con mano certe situazioni se poi vuoi fare delle scelte anche a livello politico qua siamo in un'aula appunto un consiglio comunale quindi questa cosa sto dicendo con cognizione di causa sindaci assessori hanno a che fare tutti i giorni con quello che è su Brugherio in particolare le esigenze che ci sono so che sabato ci sarà l'evento dedicato appunto ai nuovi cittadini sono situazioni che arricchiscono un paese perché ti fanno capire davvero chi lo sta vivendo questo paese come mutuano le cose e nel vivere un paese nel vivere i problemi o le cose belle o le cose meno belle c'è appunto il concetto di cosa posso fare io e nel cosa posso fare io appunto l'importante è fare ok è vero che uno può dire viva la pace nel mondo ma di fatto la pace nel mondo non arriverà mai scusate scusate nel senso che comunque anzi il contrario stiamo lasciando ovviamente le giovani generazioni più conflitti di quelli che c'erano qualche anno fa però di fatto effettivamente uno può mettersi in gioco e con poche parole con fatti concreti come fa volontariato alla Croce Rossa o in qualsiasi associazione locale territoriale può scegliere di fare un altro tipo di volontariato io ho conosciuto tanti tuttora conosco gran parte degli equipaggi delle navi umanitari in mare per quello che è un tema molto sensibile quello dei salvataggi in mare perché conosco benissimo anzi uno dei responsabili attuali di Medici Senza Frontiere se non l'avete ancora invitato fatelo si chiama Riccardo Gatti abita a Calorzio Corte vive tanti anni in Spagna però di fatto è sul capo missione della nave di MSF in mare ok quindi si può fare volontariato qui o su una nave però il concetto è quello di di esserci esserci in queste ferite no parlavamo il titolo appunto riguardo alle ferite queste sono ferite aperte nel senso che comunque Lorena che è questa signora che vedete in foto che è una persona che se avesse un senso vero il primo nuovo per la pace nel senso al di là di tutto al di là di candidarla è una persona che da anni con suo marito sta in piazza ogni pomeriggio alle 4, alle 5, alle 6 pomeriggio e medica le ferite dalle persone che passano attraverso la Slovenia Croazia la Bosnia stanno settimane nei boschi arrivano a Trieste hanno i piedi scarpe consumate i piedi mal ridotti dalla pioggia all'umidità e quello che fanno è medicare i piedi basta senza dover fare chissà quali barricate è chiaro che poi il loro messaggio è politico di fatto perché sono lì in una situazione in cui persone che in questo momento non hanno i documenti sono lasciate in balia di se stesse e loro le medicano ok ma proprio la luce c'è il sole sono nella stazione di fronte alla stazione di Trieste nella piazza di fronte alla stazione di Trieste se andate in vacanza a Trieste davvero fermatevi mezz'oretta in questa piazza tant'è che è stata dichiamata la piazza del mondo perché ogni sera si riempie di persone c'è la pagina Facebook se lo usate di linea d'ombra che è l'associazione che hanno fatto che ogni sera mette le foto ieri sera c'erano se non sbaglio 60 persone tra cui 20 ragazzi minorenni ok arrivati proprio da soli molti anche dall'Afghanistan questo flusso continua loro come altre persone quando fai queste cose sono cose delicate perché essendoci in mezzo della legge rischi magari di avere dei problemi fortunatamente loro stessi sono stati a un certo punto sono stati scagionati da un'accusa appunto che non era assolutamente vittiera ovvero nel momento in cui ha a che fare con qualcuno che non ha i documenti è chiaro il rischio è quello che tu stai favoreggiando l'immigrazione clandestina con il tuo atto però di fatto poi ci sono fortunatamente le leggi per cui se tu stai facendo la luce del sole lo stai facendo senza avere proventi economici non sei imputabile di questo reato infatti sono stati prosciolti però di fatto pensate a dove era questo signore che ha 85 anni una mattina alle 5 è arrivata la polizia a fare una perquisizione scusate cosa sua cosa forte nel senso che comunque come a volte sta succedendo adesso criminalizzare un certo tipo di solidarietà porta davvero a un livello è come abbassare l'asticella in termini di umanità non so se avete presente un'altra storia particolare qualcuno avrà visto questo film che vi consiglio di vedere si chiama Le nuotatrici è su Netflix da qualche mese è la storia vera di due ragazze seriane che sono fuggite dalla guerra in Siria una in particolare era nazionale seriana di nuoto ed è riuscita adesso ad essere nazionale della squadra olimpica dei rifugiati che due edizioni olimpiche che c'è di fatto però ha fatto un viaggio veramente estremo che è il gommone che si è fermato nel mare tra Grecia e Turchia non arrivava in porto se loro non riuscivano a fare un'azione molto coraggiosa la sorella l'altra sorella cioè non quella olimpionica quando è arrivata in Germania dopo aver aspettato tanto perché comunque anche lì si aspetta un po' per avere i documenti ha deciso di tornare sull'isola di Lesbo per aiutare le altre persone come è stata aiutata lei quello che è successo è che è stata denunciata anche lei per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina adesso tuttora c'è un processo che a quanto pare come tutti gli altri processi non porterà a nessuna parte ma di fatto se una persona capite no essere sotto processo significa comunque a livello mentale non è facile perché devi andare in un'aula processuale devi difenderti devi usare del tempo per gestire queste cose e nonostante tutti i programmi innocente insomma quindi sia Lorena e Gianandrea che appunto vi consiglio di andare a conoscere perché è una esperienza molto forte sia tutte queste persone hanno deciso da che parte stare un po' il concetto è un po' quello che non vuol dire stare dalla parte di chi arriva o di chi accoglie ma di fatto scelgono di aiutare quando vedono persone in difficoltà il concetto è un po' quello e io ho tanta ammirazione verso queste persone perché lo fanno appunto come dicevo in modo molto trasparente ok tra l'altro se mi interessa da qua a Monza ci sono delle persone che spesso vanno a Trieste e raccolgono anche banalmente scarpe perché sono le cose più consumate o altro materiale che arriva direttamente loro loro hanno fatto questa associazione che è molto trasparente per cui rendi conto a tutto è tutto chiaro e trasparente ecco questo è un esempio negli altri confini vediamo se trovano immagini dove ritrovarla cioè succedono delle cose che uno può pensarci e dire vabbè sì è una cosa normale però di fatto se non lo fai non diventa normale allora vediamo se scusate perché qua non si vede la visualizzazione delle foto e non so se sono giuste o meno vediamo se è questa questo è il ragazzo che vi dicevo prima che è afgano che anche lui è arrivato è che è in Inghilterra insomma mi sa che è difficile che la trovo adesso magari la trovo dopo di fatto ci sono persone che vedono le esigenze che ci sono e aiutano a 20 miglia ogni sera alle 7 c'è di fianco al cimitero c'è un grosso parcheggio e ogni sera alle 7 ci sono volontari italiani e francesi che si trovano lì con un pentolone da andare a mangiare ma di fatto la cosa più importante è su una specie di asse di legno hanno messo un generatore e circa 60 prese di telefono e quindi le persone che sono lì in frontiera sperando di o attraverso il treno o attraverso purtroppo l'autostrada che è pericolosissimo o attraverso la montagna c'è il passo della morte che viene chiamato così dalla prima guerra mondiale mi sembra che lo usavano gli italiani per scappare in Francia le persone fanno quella tratta per andare in Francia ma di fatto si fermano le 20 miglia per qualche giorno e ricarichano il cellulare quindi anche l'esigenza di ricaricare il cellulare è importante perché il cellulare è l'oggetto più importante di queste migrazioni quando a scuola facciamo un lavoro con i ragazzi e gli chiediamo cos'è che portereste via le cose più importanti da casa vostra se casa vostra diventasse un luogo pericoloso molti scrivono il cellulare perché di fatto non è una cosa in più è una cosa fondamentale il cellulare perché è molto utile quindi avere queste ricariche del telefono lì a portata significa che le persone vengono lì le usano intanto le conosci vede le varie esigenze e quindi puoi conoscere le situazioni quindi questa è un'altra attività che fanno le persone vi faccio altri esempi gli scarponi che vengono che usano le persone in Val di Susa anche lì è una cosa che piuttosto interessante che vi fa capire comunque alla fine come la base ci sia questo spirito solidaristico vi faccio vedere l'immagine aspettate che ce l'ho dentro questo mi ricordo che ce l'ho dentro questa cartella ah però manca la visualizzazione vediamo se la trovo scusate c'è a un certo punto vediamo se così la trovo vedete un paio di scarpe ecco le persone che arrivano al rifugio di Ulx si trovano davanti a sé tante scarpe da montagna donate dai cittadini ok questo è una una famiglia del Kurdistan ok che è fuggita appunto dal Kurdistan iraniano il papà è stato licenziato perché anche lui è un'altra vista per i diritti in questo caso del popolo kurdo è fuggito con la famiglia e due figli tu prendi queste scarpe per fare il pezzo in montagna quando arrivi a Brianson in Francia ridai le scarpe agli attivisti francesi di questo centro dell'accoglienza quello che fanno i francesi è riportare le scarpe al rifugio italiano in modo tale che le scarpe si riutilizzano cioè sembra una cosa quasi una if però di fatto no non lo è perché di fatto significa comunque che non vengono buttate buttate nel materiale si riutilizza anzi questa solidarietà diciamo terra a terra che però serve molto un altro esempio questo non in Italia però in Turchia molto spesso non so se avete presente ma giubbotti di salvataggio a parte in Libici i trafficanti in Libici non glielo danno infatti Wisdom non aveva giubbotti di salvataggio in Turchia invece riesce ad ottenerli per fare quella attraversata verso la Grecia ma i commercianti di quella zona o quelli più disonesti hanno cominciato a vendere i giubbotti di salvataggio anziché 10 dollari a 100 dollari allora una serie di volontari di quel territorio assieme ai propri stessi hanno capito cos'è la cosa più semplice da fare comprare su internet i giubbotti di salvataggio quindi col proprio cellulare uno ordina il giubbotto di salvataggio lo fa arrivare all'indirizzo del volontario e quindi supera questo racket di giubbotti di salvataggio alla fine capite sono cose semplici ma di fatto fanno sì che c'è una rete di persone che aiuta e rende un po' meno difficile un viaggio che già di per sé è molto difficile grazie grazie ci sono domande volete chiedere fare una considerazione un commento e approfittarne se segnalate se avete il microfono davanti potete semplicemente schiacciare siete rimasti stesi da questo racconto allora chiedo io un'altra cosa Daniele io mi sono stupito ho scandagliato il sito del ministero e il sito del ministero curiosamente è pieno di dati molto di report molto precisi in cui vengono messi i dati dei famosi MSNA minori stranieri non accompagnati ci sono le storie ci sono i numeri disaggregati per ogni possibile nazione di arrivo regione di accoglienza eccetera e ci sono anche delle considerazioni piuttosto amare sul fatto che la legislazione in tema di minori ovviamente è diversa cioè un minore ha delle tutele molto diverse da un maggiorenne per cui per esempio i centri di accoglienza devono essere centri molto particolari e però lo stesso sito del ministero in qualche modo non so bene come dire autodenuncia il fatto che però non vengono fatti com'è la situazione in questo momento? Il problema nasce dal fatto che i centri per minorenni sono dislocati in varie regioni ma in particolare spesso sono in Sicilia sono nella prima regione di arrivo a livello economico sappiamo bene che la Sicilia non è il motore d'Italia e quindi di fatto alcune persone che stanno in Sicilia magari stanno anche bene anche i ragazzi poi però vedono che comunque il lavoro che trovi non è il lavoro che ti serve perché nel momento in cui diventi diciottenne e devi andare in una comunità di adulti o magari anche se sei già pronto a essere indipendente di fatto un contratto non lo trovi se trovi lavoro lo trovi nero comunque non con le tutele che hai quindi di fatto non puoi avviarti verso l'autonomia quindi si crea questa situazione per cui diventa un parcheggio con tutto il rispetto però degli operatori che spesso sono comunità anche con operatori molto validi però di fatto è come se fossi parcheggiato poi ovviamente sapete che c'è stato tutto un discorso legato a chi ci guadagna il business dell'accoglienza che purtroppo c'è ancora un po' non come prima non è normale però anche la mafia in tutto questo ci ha gioito nel momento in cui i fondi per l'accoglienza non sono così tanto seguiti diciamo quindi non sono così tanto garantiti meno male che i comuni a un certo punto sono riusciti a gestire questa accoglienza in modo diretto attraverso quello che oggi si chiama SAI che è il servizio di accoglienza sistema di accoglienza e integrazione che si chiamava PrimaSparar anche per i minori c'è i minori quindi direttamente un comune che sa le persone sui propri territori quali sono in accoglienza le può gestire meglio se invece il servizio è prefettizio la prefettura da un in questi centri di accoglienza straordinaria si chiamano CAS da in gestione a un ente l'accoglienza è chiaro che il comune l'ente locale ha proprio difficoltà a capire i flussi di persone i passaggi anche banalmente come è fatta l'accoglienza come viene gestita quindi questi centri che ci sono a volte però denotano una difficoltà strutturale ad andare incontro alle esigenze di questi ragazzi ma non perché bisogna per forza andare incontro alle esigenze perché magari uno si adegua poi alla situazione però di fatto vede che non è quello che una persona cerca perché per esempio i minorenni non viene incentivato tanto il lavoro e va bene perché è giusto che i minorenni non lavori ma un minore di 15-16 anni afgano o di un'altra nazionalità non è un minore di 15 anni italiano ha una vita diversa 15 anni lavori già in Afghanistan lavori quindi di fatto se non capisci queste differenze anche a livello culturale queste persone non vogliono solo andare a scuola non avrebbero bisogno anche di come dicevo prima alcuni addirittura di guadagnare perché devono ancora riscattare il trafficante quindi la famiglia dal debito che ha contratto quindi sono ragazzi che hanno sono già a forza lavoro fondamentalmente quindi questo è un aspetto importante da capire questa è la cosa più grossa che mi è venuta in mente anche andando proprio fisicamente visitando questi centri come è successo quest'estate molto in Sicilia e in Calabria molti però di questi ragazzi appunto nei centri non ci vogliono rimanere quindi quello che fanno è che fuggono fuggendo non sono carceri quindi puoi fuggire aprendo la porta al mattino andartene quindi nessuno anzi gli operatori poi alla fine devono stare lì a registrare chi c'è chi non c'è quindi ogni giorno anche questo devi denunciare la scomparsa però di fatto non è una scomparsa vera e propria nel senso che se seguissi il tragitto del minore lo trovi un giorno due giorni dopo appunto come dicevo prima a Ventimiglia o a Ulx a Clavier o in altre state perché sta andando verso Nord ultimamente a Como ha ricominciato molto il viaggio per un po' non c'è più stato adesso stanno tornando le persone ad andare da Como verso la Svizzera e quindi capisci che quindi non è che si tratta di una qualcosa che non scandalo tra virgolette meno male perché dopo gli anni scorsi è migliorato un po' l'accoglienza in sé però di fatto è come se non risponda alle esigenze di questi ragazzi infatti se ne vanno fondamentalmente quindi ben venga che ci siano tutti questi rapporti però di fatto alcune cose rimangono senza soluzioni senza nemmeno capire come cambiare le cose come fermare di più questi ragazzi alcuni non li fermi non hanno interesse a rimanere qua in Italia perché è la loro vita un po' altrove sanno che altrove c'è più possibilità anche banalmente economica tra virgolette e mi viene a dire questo poi un'altra cosa per esempio i ragazzi che ho fatto vedere prima una foto che ho messo di passaggio vediamo se la trovo ancora sì questi ragazzi qua sono l'altra parte rispetto a quello che vi dicevo dei ragazzi del Niger Nigerini questi ragazzi sono arrivati appunto minorenni questa foto l'ho fatta sulla nave Aquarius che è una nave nel 2017 quando ho fatto un viaggio un viaggio dicevo prima sulla nave a vedere i salvataggi loro stessi erano ben coscienti dei loro diritti quindi sapevano già per esempio loro originali della Costa d'Avorio dall'altro loro non so se li ricordi loro no? loro già sapevano che sarebbero andati in Francia per esempio l'Italia era un luogo di passaggio quindi già sapevano che dovrebbero stare massimo un giorno o due in comunità perché poi per evitare che venga fatta la richiesta da minorenni in Italia perché poi il livello legale diventa un problema perché si crea una doppia un doppio canale di richiesta di aiuto di asilo politico prendo spunto da questo per cambiare un attimo l'argomento nel senso che questa è una cosa che ci emoziona molto a me o Wisdom qualcuno lo sa già Laura sa già qualcun altro che ci ha conosciuto anche Mario mi sa che lo sa già pensate che su questo viaggio del 2017 sulla nave Aquarius io ero a bordo come giornalista ho fatto reportage per diverse testate sono state salvate 371 persone ok? e a un certo punto tra queste 371 persone ce n'era una in particolare che non conoscevo e non ho conosciuto quel giorno lì l'ho ripresa in video ma non l'ho conosciuta l'ho conosciuta l'anno scorso dopo 4 anni e ho scoperto che era una persona che era sul viaggio io ero a bordo come giornalista questa persona è stata salvata ve la faccio vedere nel video non so se lo riconoscete questa persona qua quindi lui lo chiama a destino io lo chiamo coincidenza lui si arrabbia perché no è a destino praticamente noi ci siamo conosciuti per la prima volta sulla nave quindi ho visto in diretta il suo salvataggio Wisdom appunto è stato salvato mentre ero a bordo della nave tra l'altro il salvataggio più difficile dei tre che ho testimoniato perché la sua nave stava affondando fortunatamente siamo arrivati in tempo nel senso che loro erano ancora a bordo del gommone non stavano nell'acqua però l'acqua ha iniziato a entrare sul gommone quindi aver visto direttamente il loro salvataggio me lo ricordo ancora se chiudo gli occhi me lo ricordo però di fatto aver di fianco a me adesso abita Camparada che è il paese di fianco Cosmate Verate se ci pensate c'è con tutti gli 8000 e passa comuni italiani proprio di due comuni di fianco di 2000 abitanti ciascuno ci siamo trovati quindi ancora di più quando andiamo nelle scuole e raccontiamo questi ragazzi anche loro ci rimangono rimangono colpiti perché di fatto appunto Wisdom non ce l'hai qua stasera immagino però di solito porta anche fondamentalmente lo zainetto che vedete qua sulle spalle lo porta a scuola lo fa vedere i ragazzi è per lui un oggetto di ricordo di qualcuno che gli ha salvato la vita e qua per essere chiari che sia guardia costiera o navi delle energie la stessa identica cosa fanno lo stesso tipo di aiuto però avevi già con lo stesso bellissimo sorriso già allora appena arrivato dalla Libia guarda che sorriso come adesso io continuo a provocarti perché vedo che non lascio una me che pure ho una voce da allergia e quindi me ne scuso non l'ho fatto una piccola questione che secondo me è però molto importante è una questione che riguarda la pulizia del linguaggio oggi leggevo che la regione Friuli Venezia Giulia per contrastare l'immigrazione clandestina ha acquistato una cinquantina di fototrappole che sono le stesse che si usano per gli animali allora si chiamano nella fornitura non so se nel MEPA domani cercherò nel MEPA se ci sono le fototrappole perché io trovo che uno degli aspetti magari secondari ma secondo me molto importanti è che da un lato si imbarbarisce il linguaggio e senza che ce ne accorgiamo e poi certo dall'altro troviamo persone come i due di linea d'ombra che improvvisamente lo riconquistano lo ripuliscono il linguaggio voglio capire cosa ne pensi tu cosa hai visto tu intanto questa è la foto che ho fatto al gommone di Wisdom quindi Wisdom era uno di queste persone a bordo giusto 125 eravate queste persone quindi questo è il momento del salvataggio e tra l'altro c'era di fianco anche la guardia costiera libica che ha minacciato loro di riportarli indietro poi fortunatamente non sono riusciti a far ripartire il loro gommone quindi hanno accettato che li salvassero e portassero in Europa quindi è puro caso che lui non è stato riportato in Libia quindi avrei dovuto ripagare di nuovo i trafficanti per ripartire quindi sono dinamiche che veramente al solo pensiero mi fa impressione perché l'Italia è tuttora in vigore degli accordi con la Libia se lo sapete però di fatto questa è una delle cose a livello umano ancora prima che professionale che mi sconvolgo anzi mi fanno un po' vergognare per i segni che portano le persone che arrivano dalla Libia detto questo appunto però sulla stessa lunghezza d'onda va un po' a certe decisioni non capisco perché vengono prese o meglio uno può capirlo ma di fatto non capisco la motivazione finale anche perché comunque se una persona più una persona viene messo un muro il concetto che mi sono fatto un muro un disincentivo al viaggio più aumenta il rischio ma non disincentiva il viaggio stesso cioè le persone vogliono che vogliono arrivare là ci provano a arrivare comunque piuttosto aumenti i rischi che le persone muoiano o che creano difficoltà questo è davvero importante da capire perché non fermi la speranza con delle fototrappole non la fermi nemmeno appunto con la guardia costiera libica cioè e questo per me va al di là visto appunto sinistra centro destra quello che vogliamo è proprio a livello anche pratico pragmatico cioè prova a metterti appunto nei panni di una persona che sta facendo questo viaggio non ha alternativa a fare quella strada lì che è nel momento in cui capisce che solo la starà meglio e non si ferma in mezzo e non torna indietro e questo non so dire più di questo perché di fatto anzi sono quei boschi lì li conosco bene perché proprio per il rapporto di Siave e Cid non abbiamo girato in quei boschi come dicevo prima con Alessio Romanzi vi faccio giusto vedere se voi scrivete nascosti in piena vista che è il titolo del rapporto vi faccio vedere proprio il video che ha fatto Alessio del 21 in particolare lo vedete è questo qua e è proprio sui luoghi in cui metteranno queste fototrappole che abbiamo fatto proprio il viaggio lì ve lo faccio vedere dura due minuti grazie a tutti 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 Grazie a tutti